Ospedali campani fuori dai 250 migliori al mondo e non in buona posizione neppure tra quelli italiani. È il triste dato che emerge da The World's Best Hospitals 2023, la classifica che per il quinto anno consecutivo il magazine americano Newsweek ha redatto, catalogando oltre 2.300 ospedali presenti in 28 paesi del mondo. Le caratteristiche delle strutture sanitarie prese in esame sono il livello delle cure, la qualità della ricerca e anche la capacità di attrazione per professionisti sanitari. Per la prima volta quest'anno tra i parametri valutati è stata presa in considerazione anche l'esistenza di indagini strutturate rivolte ai pazienti per verificare l'efficacia delle cure e la loro percezione di miglioramenti nella qualità della vita. Inutile a dirsi che si conferma un'Italia a due velocità, con la sanità del nord più di un passo avanti rispetto a quella del sud. Tra i migliori 250 ospedali al mondo sei sono lombardi, tra i primi cinque italiani quattro sono in Lombardia. Sul gradino più alto del podio però nella classifica italiana c'è il Gemelli di Roma, al 38esimo posto nel ranking mondiale, con uno score di quasi il 94%. Secondo e terzo posto vanno al Niguarda e al San Raffaele, entrambi di Milano. Gli ospedali campani sono fuori dai migliori 250 a livello mondiale e tra quelli italiani bisogna arrivare al 41esimo posto per trovare il primo ospedale della regione. E' il Federico II di Napoli che ottiene uno score del 75%. Più giù si trovano l'azienda ospedaliera dei Colli a Napoli, 62esimo posto, il Rummo di Benevento al 91esimo, il Cardarelli al posto 102 e subito sotto il Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Tutti gli altri, compreso il Ruggi di Salerno, non ce la fanno ad entrare nella classifica, neppure in quella italiana. Una menzione a parte in quanto ospedali specializzati va poi al Pausillipon per i bambini e al Pascale per i tumori, le cui eccellenze vengono riconosciute nella classifica italiana.